I militari della stazione di Napoli-Marianella hanno individuato ed arrestato un gruppo di 10 persone con l'accusa di rapina ad abitazioni e negozi, in alcune delle quali avevano impersonato dei carabinieri e avevano finto di effettuare perquisizioni. La banda ha colpito tra settembre dicembre 2018 diversi quartieri di Napoli e nelle città di Afragola e Marcianise, Caserta. I soggetti sono accusati di rapina, detenzione, porto abusivo di arma da fuoco, sequestro di persona e furto in abitazione. Quattro componenti del gruppo erano già stati colpiti da misure cautelari a gennaio, accusati di tre rapina a mano armata, due in abitazione e una a danni di una sala scommesse. Dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera, nella giornata del 10 settembre, il governo Conte Bis ha ottenuto la fiducia anche al Senato, con 169 voti favorevoli, 133 contrari e 5 astenuti, 8 sì in più rispetto alla necessaria maggioranza politica di quota 161. Commentando i risultati, il Premier ha dichiarato «è un nuovo inizio per l'Italia, una stagione riformatrice di rilancio e speranza». Conte ha poi nuovamente elencato i contenuti programmatici portanti, tra cui il taglio delle tasse, prima fra tutti quelle che vanno a gravare sui lavoratori, con interventi sul cuneo fiscale. Secondo il rapporto Oxe, la scuola italiana nei prossimi 10 anni vedrà due cambiamenti importanti. Ci saranno oltre un milione di studenti in meno e circa la metà dei docenti attuali. Secondo lo studio, il 59% degli insegnanti del bel paese ha più di 50 anni e circa la metà dovrà essere sostituita entro i prossimi 10 anni. Per quanto riguarda gli studenti, invece, l'Italia registra la terza quota più alta tra i paesi considerati di NET, cioè giovani che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione. Il dato si attesta sul 26% nella fascia d'età compresa tra i 18 e 24 anni, rispetto ad una media Oxe del 14%. La visione creditizia dell'Italia è stata valutata dall'agenzia di rating Moody's a livello BAA3, con Outlook stabile. Lo scrive la stessa società in una nota di aggiornamento, che specifica che si tratta di una credit opinion e non di una decisione sul rating del paese, e che la scelta è stata motivata da diversi fattori, tra cui gli elevati livelli di debito pubblico che difficilmente diminuiranno nei prossimi anni, la crescita lenta e la mancanza di un'agenda di politica economica coerente. Moody's poi aggiunge, la formazione di un governo di coalizione di centro-sinistra dovrebbe far prevedere un periodo di stabilità politica in Italia. Per quanto riguarda il PIL, invece, la compagnia scrive, abbiamo ridotto le nostre previsioni di crescita per l'intero anno a solo lo 0,2%, dallo 0,4% in precedenza. Prevediamo una performance di crescita leggermente più forte nella seconda metà dell'anno, con tassi di crescita trimestrali dello 0,1-0,2%, grazie principalmente ai continui sviluppi positivi sul mercato del lavoro e sulle esportazioni.